Parola d'ordine, velocità. Ebbene sì, se state cercando uno smartphone di estrema concretezza, la cui parola d'ordine è proprio questa, velocità, usabilità, facilità nell'utilizzo, allora l'avete trovato. Pochi fronzoli e tanta sostanza come è un po' nel mio stile nello scegliere i dispositivi tech e in particolar modo gli smartphone. Parliamo di OnePlus 7 Liscio, il fratello minore di OnePlus 7 Pro. Uno smartphone a dir poco straordinario, nel quotidiano ci ha dato delle enormi soddisfazioni, sta continuando a darcele, è diventato il mio dispositivo principale. A bordo una batteria da 3.700 mAh che in più potrà far storcere un po' il naso e qualcuno potrebbe dire che è un po' troppo risicata, però la differenza qui la fa il software. L'Oxygen OS ottimizzata con Android 9, pronta ad accogliere il nuovo Android 10. Sicuramente questo dispositivo avrà una vita ancora molto lunga perché fa ottime foto, è leggero, è maneggevole, è veloce, ha un audio stereo con supporto al Dolby Atmos, gli manca il jack per le cuffie, gli infrarossi, ha un piccolo gotch là in alto, è tutta sostanza, è tutta velocità. Abbiamo i tre tastini veloci classici di OnePlus per poter silenziare, attivare la suoneria o la vibrazione. Schermo veramente luminoso in ogni situazione, anche all'aperto con luce diretta sul display. Questa colorazione è bellissima, niente da dire. Audio in capsula pazzesco, non ho mai sentito un audio così alto da doverlo addirittura abbassare durante le telefonate. Ricezione superlativa, il volte lavora bene, fotocamere anche qua siamo ad alti livelli, manca la grande angolare ma è una mancanza assolutamente trascurabile perché le foto sono di altissima qualità. È completo, non gli manca nulla, almeno per le mie esigenze. Subito dopo la sigla ne parliamo insieme. Sì ragazzi è proprio la casa madre che puntualizza il fattore velocità di questo dispositivo. Noi abbiamo la versione da 8GB LPDDR4X e 256 interni non espandibili UFS 3.0. Manca il jack audio, manca la ricarica wireless. Qui non avevo provato la cover con voi, vi faccio vedere come calza. È davvero fatta bene la cover in dotazione, questa è proprio la sua che trovate in confezione. Guardate gli angoli come sono rinforzati e sopraelevati. Se vi capita di metterlo a testa in giù il display non toccherà mai sul piano. Questa è una vera furbata di OnePlus che fornisce sempre delle cover molto molto valide dal punto di vista della protezione. E gli angoli in più sono anche rinforzati oltre ad essere sporgenti. La togliamo per non rovinare l'estetica di questo gioiellino perché a me piace davvero tanto. Abbiamo già detto che ha una ricarica rapida da 20 Watt, non come il fratello maggiore che ce l'ha più veloce, una 45. speaker stereo, la capsula qua in alto è davvero grande e l'audio esce molto potente. Dopo vediamo con la parte multimediale e vedrete che potenza ma abbinata soprattutto alla qualità. Manca anche l'espandibilità quindi non abbiamo l'alloggiamento per la microSD. Col tuperello andiamo a vedere ci sono due nano SIM ma l'avevamo già visto anche l'altra volta. Non voglio togliere la SIM ma ormai ho scelto e lo faccio. Qui c'è una piccola guarnizioncina, potrebbe far pensare che c'è una certificazione di qualche tipo ma non c'è nessun tipo di certificazione IP6XX. A bordo lo Snapdragon 855, l'ormai famosissimo Snapdragon 855 e come ho detto le memorie UFS 3.0 che sono velocissime e l'abbiamo dimostrato anche nelle prove che abbiamo fatto confrontandolo con l'Axon 10 Pro. E a tal proposito ringrazio ancora Stefano. Usciamo solo ora con la recensione del OnePlus 7, abbiamo voluto dare la priorità ad altri device quest'estate. Io direi che quando si recensisce un prodotto non bisogna fare la gara e la corsa su nessuno ma solo provarlo puoi raccontare i pro, i contro e tutto quello che sono le impressioni personali di chi le prova. Dietro abbiamo una fotocamera con sensore Sony MX586 da 48 megapixel che però scatta a 12 megapixel unendo 4 pixel in uno per una maggiore luminosità e un dettaglio e con apertura f1.7 stabilizzato sia con stabilizzazione ottica che elettronica. Aiutato da un'ulteriore fotocamera da 5 megapixel con apertura f2.4 che però interviene principalmente in modalità ritratto per il calcolo della profondità di campo. Non la potete usare insomma in modo indipendente. Davanti invece dentro questo goth c'è una frontale sempre dotata di sensore Sony MX471 da 16 megapixel con apertura f2.0 con fuoco fisso e stabilizzazione elettronica. La stessa che troviamo poi nella pop up camera tanto per intenderci del fratello maggiore OnePlus 7 Pro che a breve ci arriverà e faremo un confronto fra i due. Guardate il display com'è bello adesso aumento un po' la luminosità al massimo è quasi accecante rendetevi conto di quanto è luminoso e definito questo display. C'è anche una pellicola sopra in questo momento quindi potrebbe diciamo fuorviare un po' la visibilità mettiamo a metà così riuscite a vedere meglio. Poi abbiamo una USB Type-C 3.1 con supporto video quindi uscita video e due microfoni un microfono qui perché lo speaker si trova da questa parte e un microfono in alto per la soppressione dei rumori. Poi qui abbiamo sulla destra il famosissimo slider per cambiare da modalità silenziosa vibrazione e suoneria e appare anche l'icona a display guardate com'è interessante così potete avere sott'occhio in qualsiasi momento la funzione che state attivando. Non manca neanche l'NFC quindi a livello di connettività ci siamo assolutamente è un lettore di impronte digitali di tipo ottico davvero veloce guardate. Sfioro il display e appena lo sfioro lui mi sblocca è una scheggia veramente è uno dei più veloci che ho provato quest'anno se non il più veloce in assoluto. Vediamo lo sblocco volto sono dietro la telecamera guardate faccio clicco qui e lui mi sblocca all'istante non devo neanche mi nascondo addirittura è una scheggia pazzesca dal punto di vista dello sblocco. Lo sblocco ottico è stato ampliato ed è stato allargato rispetto a quello del predecessore 6T al quale bisogna dire la verità assomiglia davvero tanto. Veniamo al display ragazzi il display è un'unità AMOLED full hd plus da 6.41 pollici la luminosità adattiva funziona molto bene ha dei contrasti molto elevati e colori che si possono andare a tarare a piacimento nelle impostazioni del display. Con queste calibrazioni si può andare a lavorare sugli aspetti del display naturale avanzate ampie gamma rgb display freddo caldo naturale vivido io metto vivido ma sempre sul freddo. L'esperienza anche multimediale non è disturbata particolarmente da il gocce che troviamo là in alto ci si fa l'abitudine in fretta come si fa l'abitudine al buco della fotocamera del not 10. C'è anche la possibilità di andare a aumentare la qualità video con questa opzione aumento della qualità video migliore il colore durante la riproduzione di video e i contrasti vedete molto interessante. Poi il notcio si può andare a nascondere in questo modo andiamo a vedere il test del display che si commenta da solo veramente bello contrasti la saturazione contrasti bianco e nero e le foto foto andiamo a guardarle insieme molto pulita l'immagine i colori non sono mai troppo saturi e questa cosa mi piace perché è un AMOLED e i neri perfetti così come i bianchi e i rossi sono veramente ben riprodotti. La parte multimediale è molto soddisfacente guardiamo insieme un video uno degli ultimi che abbiamo realizzato sentite che audio è pazzesco portiamo pazienza ancora qualche giorno poi speriamo che arrivi il fresco scusate ragazzi sentite la musica anche i bassi non sbavano Qui abbiamo le gesture vedete ho attivato le gesture a tutto schermo che sono molto molto comode sono semplicissime Ragazzi un audio così alto quasi assordante da uno smartphone io l'ho sentito poche volte vi dico la verità perché non è solo potenza ma è anche qualità perché abbiamo ben riprodotti sia i toni alti che escono soprattutto dalla capsula in alto che è davvero grande è enorme Proprio questa griglia che non dà assolutamente fastidio nelle chiamate è una cosa pazzesca non ho mai sentito a livello telefonico uno smartphone con un volume così alto e così soprattutto cristallino Nella parte multimedia si gode il display tantissimo e l'audio è davvero un valore aggiunto sia per la qualità che per le impostazioni Dolby Atmos che si possono poi andare a regolare anche in cuffia in base alle nostre esigenze Adesso vi faccio vedere il menu del Dolby Atmos dinamica film musica e poi regolazione auricolari quando infilate gli auricolari ovviamente con l'adattatore che ci vuole poi andate a regolare gli auricolari Facciamo una chiamata di test per sentire l'audio viva voce Altissimo anche l'audio col viva voce è uno di quelli che mi sto godendo di più quando sono in macchina perché lo metto lì col viva voce non ho neanche bisogno di attivare il viva voce che c'è dell'auto Con questo basta e avanza perché è altissimo il volume eccellente davvero Oggi siamo alle 20.19 siamo ancora al 30% vi faccio vedere l'utilizzo di oggi solo di oggi della batteria tanto per farvi vedere e farvi rendere conto dell'autonomia di questo smartphone Che vi ricordo che è una batteria non rimovibile da 3700 mAh Mi sono svegliato stamattina verso le 9, 9 meno un quarto Utilizzo completo, ecco lo schermo 35% eccetera Andiamo a vedere, ho fatto già 6 ore e 28 di schermo attivo Link, offerte, video, tante app in background Tanto ci ho fatto oggi, foto, video, un po' di tutto Utilizzo misto, wifi e 4G 6 ore e 28 e sono al 30% ancora residuo Potete farvi tranquillamente tutta la serata senza bisogno di farvi nemmeno la ricarica perché tiene tantissimo Questo per farvi capire com'è ben ottimizzata questa Oxygen e la velocità nell'eseguire le operazioni Incredibile È vero i prezzi all'inizio erano un po' alti però adesso con i prezzi che abbiamo 8GB, 256GB ampiamente sotto i 400€ Attorno ai 3,80, 5, 3,90€ a volte si possono utilizzare anche i punti su Gearbest e arrivare a 3,70€ a questo prezzo è da prendere al volo C'è qualche piccola lacuna, qualche piccola pecca, qualche mancanza ma quello che c'è funziona alla grande Preferisco un dispositivo che le cose che ha funzionano tutte dal 9 in su piuttosto che un dispositivo che ha 150.000 cose e almeno la metà non funzionano bene O comunque non come ci si aspetterebbe da un top di gamma Poi è ovvio che ognuno ha i suoi gusti e ognuno ha le sue preferenze Però con OnePlus 7 state certi che non resterete delusi Perché tutto ciò che vi serve è lì A portata di mano, la velocità è qualcosa di incredibile Andiamo a vedere la navigazione richiedendo immediatamente il sito desktop Apriamo una notizia a caso Adesso sono sotto rete wifi, c'è il volte attivo, vedete Proviamo sotto rete 4G, altra notizia Ricezione straordinaria con Tim, non abbiamo avuto mai problemi e nemmeno con Iliad Questa è una stanza che di solito non prende mai al massimo, nessun operatore Qua siamo al massimo della ricezione, in questo momento non in 4G+, ma in 4G Wifi è la stessa cosa, prende al massimo Lo switch tra l'altro è molto veloce, così come velocissimo anche il fix del GPS Impressionante, in macchina ho messo alcune destinazioni, l'ho utilizzato già diverse volte E nel giro di 3-4 secondi subito pronto, incredibile la velocità E guardate la bellezza del display, ancora una volta gli angoli di visuale Tra l'altro questo schermo flat non curvo a me piace tantissimo Di più rispetto ai dual edge che vanno per la maggiore oggi Poi adesso vi faccio vedere le foto, qui in casa molto dettagliata Qui con modalità notte che lavora benissimo, così come l'HDR che è automatico Lavora in una maniera eccezionale Qui dall'alto al buio, confronto con Note 10 che è stato ampiamente vinto da OnePlus 7 Qui modalità notte, incredibile come si vedono le macchine Qui anche una bella foto, anche qui si leggono le targhe delle auto Guardate come si leggono bene, sono al quarto piano di un palazzo Al buio totale, senza modalità notte, solo automatica, quindi intelligenza artificiale Qui modalità notte attiva e qui flash, molto potente che rende molto I selfie sono molto buoni anche al buio, non c'è il flash frontale, si illumina il display Però anche rispetto al Note 10 ho avuto risultati migliori per quanto riguarda il flash Qua automatica, modalità automatica, panorama dal balcone Qui invece modalità notte, guardate i dettagli e i colori di questo tramonto bellissimo Qui con pochissima luce erano già le, vediamo se dà i dettagli della foto Vediamo, è stata scattata alle 20.08, quindi era già tramontato il sole Apertura F1.7 ricordo Guardate i dettagli di questa foto, modalità notte E qui il cancello dall'altra parte della strada Guardate com'è venuto dettagliato senza rumore Niente, zero E il tronco dell'albero, perfetto Qui al ristorante, zoom ottico, dotato di zoom ottico 2x Lo scontornamento delle scritte è perfetta senza sbavature E non è affatto scontato Questo soffitto è stato riprodotto in una maniera eccellente Anche le lampadine, guardate Anche qua da lontano, con sole già tramontato Guardate come è limpida e pulita questa foto Qui al tramonto, sempre i selfie sono ottimi Poi di seguito vi faccio andare i video 4K 60fps con OnePlus 7 Mi sembra tutto molto stabile Ricordo che ha la stabilizzazione ottica Non c'è la funzione grand'angolo C'è però la funzione zoom ottico 2x durante il video Che si può attivare, guardate Che Reattività Direi che siamo a buonissimi livelli Per quanto riguarda la stabilizzazione video Fuoco Immediato Molto bene, mi sta impressionando questo smartphone Veramente ragazzi Un salutone da Pasqui E a tutti gli amici di Cenedis Ciao Ora invece siamo a 1080p 60fps Sempre su OnePlus 7 Camminiamo un po' Tutto molto stabile ragazzi Anche in questo frangente Forse ancora di più rispetto al 4K Sul quale non interviene la stabilizzazione elettronica Che è presente oltre quella ottica Modalità Zoom ottico 2x In conclusione ragazzi Questo è un dispositivo completo Che consiglio a tutti Perché è quello che più di tutti Nel quotidiano Vi rende la vita facile Perché è semplicissimo Il menu è a dir poco disarmante Per la facilità C'è la modalità scura Come avete potuto vedere Ci sono le impostazioni Ci sono i gesti C'è l'assistente Visto? C'è l'assistente che si può attivare Tenendo premuto il tasto I gesti Le gesture Apovolgi per disattivare l'audio Screenshot con tre dita Oppure con la combinazione di tasti Doppio tocco per attivare I disegni per attivare le app Barra di navigazione I gesti sono così Tutto molto semplice Vi fa anche il mini tutorial È tutto semplicissimo Un menu intuitivo Scarno Ma non scarno perché è scarso Scarno nel senso che c'è l'essenziale Sempre tutto a portata di mano Non vi andate a impellagare In 250.000 sotto menu Che non servono assolutamente a nulla Straconsiglio a tutti l'acquisto Siamo attorno ai 400 euro Qualcosa in meno Venite a vedere le nostre offerte Sul nostro canale Telegram C'è la lista 2017 Saluto tutti i nostri gruppi Telegram Honor 20V20 Malati di smartphone Il gruppo dello zio Saluto lo zio Andate a iscrivervi anche al suo canale YouTube Mi raccomando E al canale Telegram Bobax Group E anche al mercatino dello zio Mi raccomando C'è anche il mercatino C'è la lista Iscrivetevi anche lì E poi saluto i nostri canali partner di YouTube Max Recensioni Lo zio Bob sempre Fonblog Italia Passione Smartphone E tutti gli altri nostri siti Che ci supportano Agnello Tortora E Nicola di Massman Venite anche a iscrivervi sul gruppo Il Cellulare Su Telegram Abbiamo aperto adesso un gruppo In cui potete visionare tutte le offerte E chiedere tutte le info Per i telefoni Listini e quant'altro E un salutone da Pasqui E ci vediamo prestissimo Ai prossimi appuntamenti Ciao 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 Grazie a tutti.